Mai così tanti occupati in Italia dal 1977 ad oggi. Secondo i dati Istat, a giugno 2022 il tasso di occupazione è salito al 60,1%, quello di disoccupazione è stabile all'8,1% e il tasso di inattività è sceso al 34,5%. Dopo il calo registrato a maggio, il numero di occupati torna ad aumentare per effetto della crescita dei dipendenti permanenti, superando nuovamente i 23 milioni. L'occupazione è aumentata per entrambi i sessi, fatta eccezione dei 35-49 anni, tra i quali diminuisce. In calo anche gli autonomi e i dipendenti a termine. Secondo l'Ufficio Studi di Confcommercio, la crescita degli occupati a giugno conferma la vivacità del PIL del secondo trimestre dell'anno, ma restano comunque i rischi di frenata dovuti alle fragilità legate allo scenario internazionale. Le performance del Sistema Italia si confermano però ben al di sopra delle aspettative.